ciao ragazzi e bentornati da mattia rock god in questo nuovo video vi chiedo scusa se negli ultimi giorni non ho pubblicato nulla però oltre a mettere un po d'ordine nelle mie attività ho deciso di guardare un po di cose su netflix e quindi di portarvi qualche altra recensione ovviamente il tempo di registrarle montarle caricarle ce ne vuole di tempo quindi oggi mi sentivo di registrare qualcosa ed eccomi qua ho appena terminato peraltro di vedere una mini serie di cui appunto sto per farvi la recensione che si chiama collateral lo so che questo titolo ricorda un film famosissimo con tom cruise e jamie fox però in questo caso collatera anche il nome di questa miniserie britannica prodotta da bbc 2 and netflix infatti netflix l'ha anche rilasciata sul catalogo questa miniserie si compone di quattro puntate è diretta da sj clarkson una regista che si occupa principalmente di televisione e protagonista c'è carrie mulligan che peraltro nella miniserie interpreta una detective col pancione perché è incinta ma peraltro più perché la stessa mulligan era incinta al momento delle riprese quindi la regista ha voluto accomodare questa cosa del del pancione allora di cosa parla questa miniserie sinceramente non ve lo so dire perché è talmente ricca di sottotrame e di intrecci talmente complessi che vi verrà quasi da dire ma che cazzo sto guardando non sto capendo niente allora diciamo solamente che il tutto parte dall'omicidio di un fattorino della pizza che stava svolgendo semplicemente il suo lavoro peraltro spoiler veramente gestito da schifo la persona che ha ammazzato il fattorino inizialmente ce la fanno vedere in maniera sfocata però poi cosa fa la regista della serie spoileriamo subito chi è stato a uccidere il fattorino ci fanno vedere la persona che ha ammazzato il fattorino cioè io dico ma perché farlo vedere subito al primo episodio dove peraltro è avvenuto l'omicidio cioè ma neanche ncis o low end order facevano così porca troia vabbè comunque questo questa miniserie è talmente ricca di sottotrame di intrecci complessi quasi vi verrà voglia di spegnere dopo un episodio 2 abbiamo poi la sottotrama del vicario omosessuale donna che appunto ha una relazione con la ragazza che è stata l'unica testimone dell'omicidio del fattorino poi abbiamo queste due donne immigrate clandestine che si scopre di cui una si scopre essere la sorella del fattorino ucciso quindi si cerca di farla parlare ma lei non vuole non ho capito poi abbiamo la stessa kip glaspy cioè la carrie malligan che appunto si cerca di capire quali sono i suoi metodi per indagare perché il suo ghanathan dopo un po si stanca la manda a quel paese e addirittura trama alle spalle della stessa glaspy per mandare avanti il caso poi comunque lei lo scopre lui e poi alla fine lo perdona però diciamo che sostanzialmente la diatrive era nata perché i metodi di lei non erano ben accette agli occhi di lui poi abbiamo appunto questa donna dei servizi militari che poi si scopre essere la persona che ha ammazzato il fattorino perché lei pensava che fosse un terrorista e praticamente si scopre che lei diciamo è tenuta d'occhio dal suo superiore in caserma addirittura c'è una scena dove lui stupra lei perché lei viene ricattata poi lei comunque si piglia la sua vendetta se così possiamo dire ecco avete visto c'ho già il fiatone a raccontarvi la trama di questa serie ve l'ho raccontata un po a caso perché sinceramente la casualità fa parte di questa serie non si capisce una beata minchia perché mette tutte le cose a caso ma va da una parte all'altra della narrazione prima si vede un po keep glaspy poi si vede un po la donna dei servizi militari poi un pochettino si vede questa ragazza che si chiama lori che è quella che ha mandato in teoria il fattorino a morire ma lei non poteva sapere poi c'è appunto la questione del vicario gay insomma veramente va bene che ci sono tutti questi personaggi ma buon dio un po di omogeneità nella narrazione infatti a me questa serie non mi è piaciuta e mi sono pentito di aver speso quattro ore perché ho visto un episodio negli ultimi quattro giorni praticamente l'ultimo l'ho visto oggi e ogni episodio dura il primo 56 e dal secondo al quarto 58 però anche la sensazione di noia nel proseguire con la narrazione ti viene quasi voglia di interrompere la visione a metà della serie perché dopo un po non capisci un cazzo e quindi perché dico casualità perché vengono messi gli eventi a caso ti viene quasi voglia ripeto di interrompere e di non guardarla più infatti io poi una volta finito l'ultimo episodio quando mi chiedeva la valutazione ho dovuto mettere il pollice in giù perché non mi è piaciuta questa serie e quindi procedo con la votazione perché non ho nient'altro da aggiungere peraltro ha potenziale sprecato la malligan bravissima non è una delle mie attrici preferite ma si in medesima perfettamente nel ruolo anche il resto del cast comunque se la cava abbastanza bene doppiaggio in italiano di buona fattura però ecco mi stavo dimenticando prima della votazione un altro gravissimo errore è stato compiuto dove l'azione ok si parla di una serie crime investigativa ma dove è l'azione si sentirà una malapena quattro colpi di pistola tre o quattro nell'uccisione del fattorino e uno nell'ultimo episodio fine quindi se parliamo di serie crime voi direte è vero ci deve essere per forza la sparatoria ci sono dei colpi di pistola ma purtroppo non sono abbastanza per farmi cambiare idea quindi evitate questa serie voto purtroppo devo dargli un 4 perché non basta la presenza della malligan a salvare la serie se ci fosse stato qualcosa di un pochettino più coerente qualcosa di più omogeneo ma soprattutto una scrittura di sceneggiatura molto più uniforme magari un paio di punti in più glieli davo la sufficienza ma la pena gli davo però ma purtroppo non ci siamo quindi 4 è il voto che devo dare bene ragazzi noi ci vediamo alla prossima recensione un grande abbraccio e al prossimo video